Buonasera dal Palamangano di Scafati, ventiquattresima, in Serie A Unipolsi, il match è molto delicato per entrambe le formazioni. Si va, si comincia. Washington va fino in fondo, lo scarico per Bartley, secondo tiro da fuori per Bartley, sbagliato, tape out di Snilda, Lazeschi per il tiro da tre. Bartley prova nuovamente dalla distanza, Bartley ancora bersaglio, prova a rispondere Scafati con riversa, il lob alzato per Pink, in sfidamento sul piede perno, la pinta, poi l'errore da sotto canestro, prende il rimbalzo. D'altra parte, poi si ferma, perde palla, le Blacks può andare per appoggiare il sottomano. Si ferma, poi va giù Smith, che rimane dolorante a terra, si alza per il tiro sbagliando, Lombardi! C'è Robinson adesso in difesa sulla Quintana, Morris prova a giocare a due con Smith, che va fino in fondo, appoggia in sottomano di sinistra. La Quintana alza il lobo per Smith, acrobazia di Andrew Smith. Poi Robinson parte, alza il pallone, per il tiro al volo! Prindisi regala un pallone alla Givova, si lotta per recuperarlo questo pallone, alla fine rimane tra le mani di Rossato, che non sbaglia. Arriva Rossato, attenzione che è un buon tiratore, Rossato! Prova ad attaccarlo subito, Robinson va fino in fondo, l'assist per Gentile che sbaglia! Gentile poi però si vede cadere il pallone in mano. Sì, siamo partiti male, adesso siamo riusciti a radirizzare un po' meglio la partita, anche se abbiamo concesso troppi punti a Brindisi, per poter vincere la partita dobbiamo difendere meglio. E niente, continuare a difendere, a prendere i rimbalzi in difesa. Riuscito a prendere il rimbalzo, allora Znit ha la possibilità! Fuori il pallone per la Ceschi, che riesce in qualche modo a tirare, a prendere anche il fallo. Henry controlla un passaggio non facile, poi gira su la Ceschi! Washington prova ad attaccare Rossato, va fino in fondo, scivola, riesce a seguire Morris, che si alza! Gentile riceve decisione difensiva tra la Ceschi e Smith, poi riesce a girarsi sul piede fermo, gran giocata. Taglio di Pinkins, il pallone dall'altra parte per Gentile, arriva in aiuto, Smith! Zachary, per il tiro da tre! La finta di Bartley, poi si alza, senza ritmo, Frank Bartley! Washington, arresto, tira in sospensione! 5 per l'attacco di Brindisi, Bartley se ne accorge, tira da casa sua, Bartley! A tabellone! Pazzesco, pazzesco! 7'9, 7'2, più 7 Brindisi a 54 secondi. Il pallone per Morris, adesso non si gioca più, vince Brindisi! 84 a 76! È molto importante, come hai detto, questa è la nostra prima volta in questa settimana, abbiamo due in un'altra, è stato molto necessario per mantenere la nostra settimana, abbiamo bisogno di continuare a combattere e siamo pronti per la prossima settimana. e siamo pronti per la prossima settimana,